Ehi! Ma che ci fate voi là dentro? Come? Volete sapere secondo me qual è stata la migliore fotocamera del 2022? Ma so via! Ma come? Ancora voi? Come dite? Canon, Nikon, Panasonic, Sony, Fujifilm? Ragazzi, siete fuori strada. La migliore è un altro marchio, sconosciute. Ma come siete riusciti a finire dentro pure il mio computer? Ho capito, voi insisterete finché non ve lo dico. Vabbè, però avete visto la copertina. Secondo me la fotocamera più interessante, più innovativa, che mi ha fatto dire wow di questo 2022 è questa NONS SL660, una reflex istantanea. Il fuori dalle scatole di oggi è dannatamente ghiotto. Sono tre i pacchettini da aprire, ma andrei proprio dal più piccolo verso il più grande. Il primo semplicemente è una tracolla, cioè la parte qui da strappare, un po' violenta come apertura. Però ragazzi che figata anche la tracolla è quella, come la classica corda marinaresca, con gli occhielli, vedete, personalizzati con la scritta NONS. Quindi già partiamo molto bene. Dopodiché questa è l'ottica della NONS, non so se la pronuncio giusto, è NONS, che è il 50 mm con apertura 1.8. Andiamo a vedere. Classico, classico, semplice, semplice. Ecco qui la lente frontale. Andiamo a togliere i due tappi in dotazione. Vediamo un po' il diaframma, come si comporta. Eccolo. È un diaframma a 2, 4, 6 lamelle classiche. Tutto aperto, tutto chiuso. Messa a fuoco, si allunga leggermente, la distanza minima sembra che sia in metri, quindi da 60 cm fino a infinito. Ma andiamo avanti con il pezzo forte. Ragazzi, vi faccio vedere qui la grafica qua sopra, è davvero fantastica. Sia la metto dritta che è meglio. E andiamo a scaricchiare. Sono emozionato perché è un oggetto molto, molto particolare. Non male l'effetto ventosa. E wow, ragazzi. Finitura nera opaca e, caspita, presa in mano, gran bella sensazione di robustezza, di solidità. Bellissima questa parte il legno. Il display, adesso me la devo studiare per poi godermela. In dotazione qui dentro c'è il manualetto, che è in lingua inglese e orientale, insieme. Bene, bene, bene. C'è un adattatore per il mirino, sì. E infine un cavettino USB-C per la ricarica e poi vedrò dove sta messo. Bene, adesso me lo vado a studiare e poi vediamo come si mette insieme tutto e come giustamente si carica la pellicola. Tolto il coperchio, il tappo del corpo macchina, andiamo subito a vedere quelle che sono le sue caratteristiche distintive. Innanzitutto la baionetta. La baionetta che è di tipo F, passiva, non ci sono né contatti elettrici né niente che possa andare a attuare un diaframma. Quindi qui ci possiamo adattare tante cose. Ci potrei anche adattare, ovviamente acquistando l'adattatore a parte, anche le mie ottiche Nikon F. Tutte quelle propriamente senza il controllo elettronico di quello che è il diaframma. All'interno ci stanno degli elementi ottici. Ne sono ben tre con trattamento antiriflesso perché le ottiche, anche il 50mm abbiamo visto poco fa, sono per il classico formato 24-36. Ma qui il formato che deve andare a coprire e inizio a farvi vedere l'interno è un formato 6x6. In realtà un vero e proprio medio formato. Sul davanti abbiamo anche la levetta per armare l'otturatore. Ve lo faccio vedere che vedete così anche qui all'interno l'otturatore centrale ha 1, 2, 3, 4, 5 lamelle e questo è il tasto di scatto. In questo momento c'è la posa bulb finché tengo il mio pollice premuto rimane aperto l'otturatore. Appena lascio ecco che l'otturatore va a chiudersi. Qui sopra c'è la cellula esposimetrica quindi quella che fa funzionare è l'esposimetro perché qui vedete sopra c'è un display che ci dà tutta una serie di informazioni, vado ad avvicinarmi bene e in base al tempo che segniamo in bulb sarà ovviamente a 0. Ma già mettiamo un secondo, lui mi dice F22, scusate un secondo, mezzo secondo F19 e così via fino al massimo tempo attuabile che è un 250esimo secondo che sarà apertura F1.8. Vado a innestare l'ottica quindi come funzionerà andare a fotografare con questa SL660? Per esempio io mi metto qui, mi dice che puntato in avanti ho un F1.8 e io sulla ghiera dei diaframmi vado a mettere F1.8. Ovviamente bisogna fare attenzione a quando andiamo a inquadrare, avere in quel momento l'occhio qui sopra perché se noi abbassiamo o spostiamo la fotocamera il valore esposimetrico non sarà eccezionale. Poi qui c'è il mirino, qui di fianco appunto per accendere e spegnere l'esposimetro per ricaricare la batteria interna per fare l'espulsione. Funzionerà? Lo sentite? L'espulsione della foto appena scattata. Ma la cosa bella è questa. Allora vado ad armare l'otturatore. Che succede? Eh sì, lo specchio reflex qui non ha il classico ribaltamento verso l'alto. No, tutto al momento dello scatto salta in alto, guardate. Ve lo faccio vedere rallentato dieci volte per farvi vedere che figata di proporzioni colossali che è. Ma per essere operativi, eh sì, mi manca una cosa. Pronti per mettere una confezione di InstaSquare di Fujifilm che si apre in questo modo. Ecco qui il caricatore, con sempre indicazione sopra, non andare a premere qui sopra. Bene. Prendiamo la nostra SL660 e andiamo ad aprire il dorso. La tacchetta gialla, questa che vediamo qui va portata sul lato destro, ma è obbligato perché altrimenti non c'entrerebbe proprio. Quindi è questo il modo in cui va montato. Vedete qui ci stanno queste due aperture su cui queste due parti del dorso andranno a premere. Quindi chiudiamo, a questo punto la accendiamo, la nostra fotocamera, e andiamo a fare una pressione del tasto espulsione, una pressione lunga. Questo serve per far uscire il voler, vedete quello con l'indicazione non premere, e a questo punto il contatore, strano che è passato a 9, perché per sé sarebbero ancora 10 rimanenti. Adesso inizio a fare qualche bella prova. Iniziamo a guardare qualche risultato. Iniziamo da una foto, uno still life, fatto al mio alter ego, un stile lego, le brick heads. E c'è a dire subito una cosa, vi faccio vedere l'inquadratura del mirino. La messa a fuoco non c'è l'ausilio di uno stigmometro, ma i microprismi comunque permettono di fare una buona messa a fuoco. Il problema però lo vedete, rispetto a quello che era inquadrato, qui in realtà c'è molto più spazio sopra e sotto. Perché? Perché il mirino è rettangolare mentre la superficie sensibile è quadrata. Quindi noi impugnando così la SL660 vedremo questa parte nascosta e questa parte nascosta, oppure mettendoci così vedremo questa parte nascosta. Questa parte nascosta un po' fastidioso però. Insomma io ho preso l'avitudine che quando inquadro ruoto la fotocamera un paio di volte per essere sicuro di inquadrare quello che voglio davvero. Andiamo avanti con una foto che mi ha scattato mio padre. Anche qui mio padre si è sbagliato perché lui mi ha preso abbastanza centrato. In realtà c'era molto più spazio sopra rispetto a quella che è l'inquadratura. Altro scatto della mia bella Agnese con solo sfondo l'albero natale con le lucine. E sì, avendoci un'ottica con apertura 1.8 si riesce a avere un sfocato molto molto morbido e lavorare bene. Fin qui tutti i scatti fatti fidandomi dell'esposimetro. Poi sono andato in esterni, in realtà l'inquadratura è così e un problema c'è stato. Cioè l'esposimetro mi ha detto all'esterni un 250esimo f11 e a me la cosa non convinceva perché, cioè ricordarlo, prendo la scatolina, le Istax, lo vedete, sono ISO 800 e se c'è tanto sole, ragazzi, effettivamente non va. Che succede? Il sensore è questo qui. Quando lavoriamo con soggetti ravvicinati, lavora bene. Quando lavoriamo con soggetti distanti, basta magari, non lo so, un elemento scuro da qualche parte e la lettura non è così precisa. Ovviamente se lavorate in analogico dovreste avere in casa un esposimetro esterno tipo questo e con questo fate delle buone letture, vi aiuta di molto. Ma avete visto la scatola della Istax Square monocromatica? Vi faccio vedere un po' di bianco e nero. Qui addirittura con un macro di un dettaglio di un cardine al castello, scusate, no castello, al ponte del diavolo. Un cardine rugginito con del filo spinato, ragazzi, potendo mettere a fuoco con precisione possibilità creative di tutt'alto livello. Una foto del ponte del diavolo poi con 50 mm, quindi stando davvero lontano, comunque bello. A me piace la resa del bianco e nero delle Istax. È un po' tendente al marroncino, non è un bianco e nero croccante proprio vecchia scuola, ma comunque piacevole, molto belle. E concludo per par condicio. Prima ho fatto vedere una foto di Agnese a colori, una foto di Giorgia in bianco e nero. E insomma sono molto, molto soddisfatto. È quindi momento delle pacelline. Eh sì ragazzi, che figata! Finalmente una fotocamera istantanea che ti permette di controllare il risultato, di scegliere l'inquadratura con una buona precisione, di scegliere la messa a fuoco con un'assoluta precisione, di scegliere l'esposizione. Insomma, questa macchina per me davvero è il wow di questo 2022. Anche se mi spiace, ma Fujifilm, se sei lì dietro, come mai non l'hai fatta tu questa? Te la stiamo chiedendo minimo da 20 anni. E una ditta cinese, questa Nunes, ha fatto quello che tu avresti dovuto fare. Rincorrere? Vabbè, andiamo avanti. Guardando effettivamente le pacelline. Allora, la prima cosa che mi piace è ovvio il fatto che è un reflex. Le Instax, che comunque il supporto è sempre quello, esistono di vari modelli e formati, ma sono tutte macchine che comunque ti devi fidare dell'elettronica. Sì, alcune permettono di compensare, quindi di sovresporre e sottoesporre, ma minimi controlli, soprattutto hanno il mirino di quello galiliano. Quindi non vedi effettivamente cosa viene inquadrato con precisione. E qui invece, essendo una reflex, vedi e soprattutto hai le ottiche intercambiabili. Quindi puoi cambiare, metterci delle ottiche Canon EF, le ottiche di Nunes, poi mettici l'adattatore, e metterci delle ottiche Nikon. Insomma, si aprono davvero tantissime possibilità creative, che sarebbe un pro, ma ne parliamo tra poco. Mi piace anche il fatto che è facile ad osare. Il fatto di aver integrato questo minimo di elettronica con anche la batteria ricaricabile, non è costa da poco. Le Instax, di solito, vanno con le batterie stilo. No, qui un'ottima ed ecologica batteria ricaricabile con questo esposimetro che ci aiuta a ottenere, specialmente con soggetti ravvicinati, ve l'ho detto, degli ottimi risultati, subito, davvero, in un attimo. Mi piacciono le possibilità creative. Ricordiamolo, l'espulsione, siamo noi a decidere quando farla. Quindi possiamo fare doppie, triple, quadruple esposizioni come vogliamo. E c'è anche la slitta flash. Quindi possiamo prendere e raggiungere un flash esterno, magari con delle gelatine colorate. Insomma, si aprono possibilità creative sotto il nostro controllo, che è la cosa che amo. Come amo, ovviamente, ve l'ho fatti vedere, i risultati, ho portato a casa davvero delle belle foto, dei bei ricordi che ho creato io, che ho scelto io. Non ho fatto la fotina come col cellulare, dici, è venuta bene, grazie, è lui che l'ha fatta bene. No, qui l'ho fatta bene, quando l'ho fatta bene io, e l'ho sbagliata, quando poi in realtà, sì, mi ero affidato l'esposimetro e ha sbagliato, però ho capito dove è il problema e prendendo un esposimetro esterno l'ho risolto. Per me è una cosa molto bella. Ultima cosa che mi piace è il costo. Che, Calmini, 649 dollari. Sono tanti. Sarebbe comunque 612 euro, per quello praticamente che è la conversione dal dollaro all'euro ad oggi. E secondo me, per quello che abbiamo, prezzo di questo kit, per me è tanta roba. Comunque è una macchina realizzata dall'alluminio fresata, con anche belle finiture, tipo questa in pugnatura in legno, un display OLED per controllare lo stato, c'è un esposimetro. Insomma, ragazzi, è un pacchetto davvero molto, molto interessante per quello che costa. Ricordiamo comunque che c'è una parte meccanica, questo pozzetto reflex che schizza verso l'alto, che è davvero una figata. Invece, questo è che realmente non mi è piaciuto. La prima cosa, secondo me, è quella più grave. Sicuramente loro hanno riciclato lo specchio reflex di qualche altra macchina esistente sul mercato, però è brutto perché io nel mirino vedo meno, molto, troppo meno rispetto a quello che ho inquadrato. È proprio una fetta. Manca il pezzo sopra e il pezzo sotto. Questa per me è la cosa più grave. Mi spiace poi anche che non c'è lo stigmometro, che in realtà la messa a fuoco si riesce a fare con precisione, ma non si è così veloci. Quindi se il soggetto male si muove rapidamente, l'ho visto io con mia figlia, insomma è un po' un problema. Lo stigmometro, la classica linea spezzata, aiuta anche sulle macchine con la messa a fuoco manuale ad essere veloci e qui manca. L'ultima cosa è ben ricordarlo, comunque è spedito dalla Cina. Loro dicono arriva in quattro giorni, non è vero, e dicono che cercano di evitare la dogana, quello sia vero, a me è andata bene, non ho pagato la dogana, però quello ovviamente è sempre una roulette russa. Qualche volta vi va bene, qualche volta potrebbe andare male. Ma penso che siete d'accordo con me che una figata del genere nel 2022 è venuto fuori da una ditta assolutamente sconosciuta. E con questo ragazzi vi saluto, ciao a tutti e al prossimo video, giustamente che sarà quello di Natale. Grazie a tutti.